Ciao! Oggi vi parlo di Cookie Box, un gioco dei biscottini distribuito in Italia da Asmode. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno e come si gioca. Regolamento, le carte ordini, campanellino, poi si può giocare da 2 a 4 giocatori. Ogni giocatore avrà 9 gettoni del proprio colore. Iniziamo a metterli in una sorta di tabella 3x3. Cosa dobbiamo fare? Giriamo la prima carta che è il primo ordine. Dobbiamo andare a mettere i dolci in questo ordine qui. Quindi panna, panna, poi mettiamo gli altri. Qui c'è un waffle, una ciambella col cioccolato. Qui mirtilli, mirtilli. Di qua però mi manca ancora un waffle e un tortino a forma di fiore. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa c'è. Di qua non c'è, di qua nemmeno. Quindi mi serve un waffle. Vuol dire che un waffle è... Oh, qua sotto? No? Qua sotto? Sì. Qua sotto. Adesso dobbiamo cercare quello a forma di fiore. Sì, trovato! Il primo che compone il vassoio con i dolci. Suona il campanello. Andiamo a controllare se è giusto. Se è giusto vince la carta. Questo è quanto. Io l'ho giocato da solo. Mi sono stradivertito. Più siamo, più casino si farà. E ciao a tutti con Cookie Box. Lo trovate da Creativamente Torino. Ciao!